Oggi è una buona notizia la liberazione dei nostri 18 pescatori di Mazzara del Vallo. Questa è un'altra battaglia che stiamo combattendo, cioè la battaglia di giustizia per la nuova isla. È molto pescheria affondato di terasini davanti nella zona di Ustica, quindi anche lì cercheremo di tirare a conoscere il prima possibile la verità, dare una mano anche a un supporto naturalmente ai parenti. Le altre battaglie sono quelle che combattiamo sempre contro dei regolamenti europei, purtroppo che non sono verso la nostra pesca e quindi naturalmente vanno a viettare tipologie di pesca che per noi sono tradizionali. A me viene a pensare di quella chiamata nonata, da noi la chiamiamo bianchietti. Bianchietti ad esempio si è fatta, noi in Liguria stiamo facendo un piano di gestione, quel piano di gestione sarebbe da trasportare su tutte le realtà come la Sicilia, la Calabria, dove tradizionalmente si facevano queste pesche tradizionali e cercare di farle funzionare, gestendole con gli studi scientifici attivi, non su diktat che arrivano dall'Europa senza senso, ma così potremmo parlare di tanti. Una partita importantissima che riguarda soprattutto marinerie come quella di Isola delle Femmine, comunque la marinerie siciliana e quella del tonno. Vogliamo che le quote tonno arrivino ai piccoli pescatori, che ci sia un accesso alle quote tonno anche dai pescatori che in questo momento non lo hanno. Un atteggiamento fortemente critico quell'Europa in qualche modo? Critico verso Europa fino a un certo punto, io cerco di lavorarci, adesso come Dipartimento Lega e Capo Dipartimento Lega stiamo proprio cercando di lavorare con i consiglieri regionali, i consiglieri comunali, con i territori, ma soprattutto con i nostri europarlamentari, perché la cosa che abbiamo sempre avuto è che abbiamo avuto uno stato assente sulle politiche della pesca, adesso vogliamo essere protagonisti, anche da opposizione a Roma e a Bruxelles, ma al protagonista, e quindi cerchiamo di rimanere al passo e questo dato è stato uno dei buoni risultati. I pescatori sono finalmente liberi, quindi potranno passare il Natale a casa con i loro cari. È una notizia bellissima e speriamo di poterli incontrare domenica. Lorenzo non è un ospite, ma è a casa sua, perché è una persona che ha sempre seguito il mondo della pesca a livello sia regionale che italiano, perché segue un po' tutto il mondo della pesca con un grande interesse. Sono davvero felice per la liberazione dei pescatori siciliani, un momento drammatico che si chiude finalmente dopo un periodo di grande sofferenza per loro e per le loro famiglie. Per il resto davvero disgustato per l'atteggiamento di Di Maio e di Conte, che hanno voluto fare soltanto passarella.